Siamo partiti con l'idea circa 3-4 anni fa, l'idea di provare a realizzare un ambiente, uno spazio nel quale i nostri alunni potessero dare libero sfogo alla loro potenziale creatività. La prima cosa che abbiamo pensato di fare è trovare un luogo sufficientemente ampio che potesse ospitare uno spazio che volevamo fosse strutturato come un maker space piuttosto che come un fabla. Questo spazio era in realtà un semi interrato utilizzato come deposito che aveva delle caratteristiche piuttosto interessanti dal punto di vista anche degli accessi. A quel punto abbiamo deciso di incominciare a guardare l'aspetto realizzativo, cioè come riuscire a individuare fonti di finanziamento che potessero consentirci di allestire questo spazio, sia dal punto di vista degli arredi che dal punto di vista delle attrezzature da metterci all'interno. Il fabla è nato in modo molto naturale direi come evoluzione di una scuola già orientata sulle versanti della creatività. Abbiamo in qualche maniera fatto convergere la possibilità di avere uno spazio già predisposto che era il laboratorio di arte. Abbiamo contattato un'associazione che lavorava in un altro territorio di Roma, l'associazione Roma Makers. Il nostro municipio Roma 15 ha fatto i lavori di ristrutturazione del locale, quindi ci ha messo a disposizione le risorse. Anche grazie a questa triangolazione tra la possibilità di avere il luogo, l'associazione che ha messo le macchine in comodato d'uso e il municipio che ha fatto i lavori abbiamo dato vita al laboratorio. Ci sono venuti incontro due bandi interessanti, che sono quello del PONFES sugli ambienti di apprendimento e anche quello sull'atelier creativo. Abbiamo così pensato alla possibilità di sfruttare il crowdfunding. E adesso abbiamo vinto anche un nuovo bando del Ministero, che è quello per le scuole innovative, che ci consentirà di ampliare lo stesso Fab Lab, quindi si ingrandirà, e anche di ridisegnare alcuni ambienti della scuola. Ci siamo anche accorti che stavamo arricchendo questo spazio di strumenti che avevano necessariamente bisogno di qualcuno che potesse fare loro la manutenzione e che potesse anche consentire alla scuola di aprirsi al territorio. Ci siamo messi attorno a un tavolo e abbiamo pensato di far nascere un'associazione che potesse dare alla scuola la possibilità di gestire durante le ore curriculari gli aspetti tecnici di manutenzione e nello stesso tempo potesse appunto, come ho detto prima, far aprire la scuola alle esigenze di altre scuole, anche scuole superiori, o alle esigenze dei genitori, o ancora anche eventualmente a professionisti che avessero voluto in qualche modo utilizzare appunto questa strumentazione a disposizione. Il nostro Fab Lab è totalmente aperto al territorio perché noi abbiamo un ambiente che consente di essere chiuso rispetto al resto della scuola, è aperto e quindi accessibile all'esterno e quindi anche in orari non curriculari, pur senza la presenza di personale della scuola, il Fab Lab è attivo. Dentro le scuole all'inizio non è stato facile, il modello a cui ci siamo ispirati in realtà è stato il modello delle palestre e delle scuole di musica, cioè l'idea di dire creiamo un laboratorio dentro la scuola, il laboratorio diventa un'opportunità per gli alunni e per gli insegnanti durante l'orario scolastico, contemporaneamente apriamo dei corsi extrascolastici che ne sostengono il finanziamento e che ne permettono la sostenibilità economica, la copertura di tutte le spese e delle persone che ci lavorano dentro. La caratteristica che ci ha permesso di avere un allestimento così buono è sicuramente lo spazio, cioè con lo spazio intendo che questo luogo ha un ingresso esterno e quindi è un ingresso autonomo per cui può essere utilizzato come per esempio avviene per alcune palestre in un modo autonomo dall'associazione quando ci viene dato il pomeriggio, è un luogo che in qualche modo diventa frequentato, è stato un po' l'operazione di baratto amministrativo, l'informatica, la tecnologia lo sappiamo richiedono una manutenzione costante, continua, allora il problema delle scuole è chi potrebbe veramente manutenere un laboratorio. Il modello che noi abbiamo creato è questo, avere un hub territoriale, la scuola è un luogo importante per un territorio dove noi non paghiamo l'affitto, ma alla scuola diamo in cambio la manutenzione, il know-how, la competenza sia tecnologica che didattica. Fare una didattica per i docenti solamente con quelli che sono interessati, perché chiaramente alla fine è meglio lavorare direttamente su pochi che però hanno un interesse vero e che possono poi amplificare ciò che apprendono in un'attività didattica per i ragazzi, quindi docenti che non imparano con dei corsi solo per loro, ma che imparano insieme ai ragazzi. È iniziato un rapporto di fiducia con questa scuola e quindi volta per volta si sono realizzati sempre progetti sempre più grandi. La scuola, soprattutto nell'ambito della primaria, o di questo comprensivo, ma di tutti i comprensivi immagini, non ha figure di riferimento per poterle tenere in vita e manutenerle, quindi è stato fatto questo passo di comune accordo nel creare un'associazione, un'associazione proprio che si chiama Fab Lab Officine Creative, per gestire questo spazio, fargli manutenzione e creare ricondizioni affinché questo spazio non fosse aperto solo per questa scuola, ma fosse aperto anche per altre scuole del territorio e anche per coloro che non fanno parte del mondo della scuola, ma che di questo territorio ne fanno parte. Con la creazione dell'associazione si sono avvicinate persone che fino ad ora hanno sempre vissuto, hanno avuto questa passione, mi hanno sempre vissuto in maniera indipendente. Adesso si è costituito un gruppo veramente che riteniamo valido, tra i quali è il nuovo Alessandro in calza, ci sta Stefania Renitto, Simi Laporta, Giuseppe Candide e altre persone. Siamo partiti con una formazione frontale con i docenti abbastanza intensiva, insegnando loro come utilizzare i macchinari, quali sono le potenzialità del Fab Lab e soprattutto abbattendo questo grande mostro della tecnologia. Ci sta questo stereotipo per cui la tecnologia allontana i ragazzi dalla socialità, dalla sfera affettiva, dai rapporti, mentre invece noi qui facciamo tutto il contrario. Facciamo due tipi di formazione, formazione frontale per cui loro vengono e gli insegniamo come utilizzare i macchinari del Fab Lab con proprio dei corsi di formazione che sono partiti ormai due anni fa e continuano quest'anno. Dopodiché li assistiamo con gli studenti, quindi loro vengono con delle idee, dei progetti e noi li aiutiamo con i ragazzi a svilupparli qua all'interno del laboratorio. All'inizio hanno avuto difficoltà a capire il ruolo del Fab Lab e della nostra presenza perché non capivano che cosa poter fare all'interno del Fab Lab. Quest'anno i docenti arrivano con idee davvero innovative e soprattutto integrate alla didattica, perciò se all'inizio era il lavoro di Natale, il lavoro della festa della mamma, la festa del papà, quest'anno riescono ad integrare le tecnologie del Fab Lab all'interno della loro didattica che è proprio lo scopo di questo progetto. Con l'esperto scatta quel rapporto di intesa perché la docente ha un'idea e immediatamente la comunica al tecnico. Secondo te è fattibile o non è fattibile? Quei consigli che solo un tecnico può dare sicuramente sono fondamentali per noi docenti perché la docente non può essere una tuttologa. Dà i consigli giusti e la guida fondamentale per alcune cose che chiaramente noi docenti possono sfuggire. Chiaramente bisogna seguire una metodologia strutturata nel momento in cui si fa una proposta simile nel senso che devono seguire delle fasi ben precise. I bambini vengono guidati all'osservazione. Poi dopo l'osservazione vi è la fase di progettazione che è quasi corale quella. Infine, la fase di verifica, anche questa è vissuta come un apprendimento. Lavorando in classe comunque c'erano dei limiti, anche se i banchi li abbiamo resi flessibili. Di conseguenza quando c'è stata l'opportunità di poter soffrire di un atelier, per noi è stata una grande conquista. Scendiamo giù nell'atelier e abbiamo lì tutto a portata di mano. Si dispongono i bambini per gruppi, adesso sto trattando la Divina Commedia e di conseguenza ho spiegato loro che ci sono dei personaggi da conoscere. E adesso nell'atelier stiamo cercando di creare personaggi. Sulla piattaforma di Tinkercard loro stanno cercando di creare Caronte. Questo è Caronte e lo stiamo facendo con Tinkercard. Abbiamo iniziato a fare il corpo prendendo una specie di pancia perché la maestra ci ha detto che prendendo il rettangolo era troppo piatto. Facendo un po' di muscolatura abbiamo pensato di prendere la forma geometrica al tetto circolare. Con il Lego Widoo loro hanno realizzato i tre personaggi cardine della Divina Commedia, Dante, Virgilio e Beatrice, e poi li hanno coperti in tinkering con i materiali di risulta che avevamo a disposizione nell'atelier. C'è una collaborazione, una cooperazione sia tra pari che poi invece discente e docente. A volte non è semplice seguire tanti gruppi in contemporanea, però io trovo soddisfazione perché comunque ottengo dei risultati soddisfacenti. Il Fab Lab Scuola ci ha permesso di rendere una didattica più divertente, più attiva, in cui i ragazzi progettano, fanno, sperimentano, sbagliano, riniziano da capo e poi arrivano ad una soluzione. Ci permette di utilizzare un metodo sperimentale, ma nel vero senso della parola, che non è più teorico, ma è attivo. E ogni volta che scendiamo poi i ragazzi chiedono di rimanere, perché si divertono. Hanno fatto un laboratorio sul teorema di Pitagora. Il teorema di Pitagora è molto semplice, perché a livello espositivo basta imparare a memoria due cose. Ci serve che sappiano fare, sappiano applicare. Abbiamo creato appunto questi modelli sul teorema di Pitagora. Quindi la matematica, per esempio, per noi non è più a livello astratto, a livello teorico, ma diventa pratico, diventa più facile, più approcciabile e più reale anche per i ragazzi. È stato un lavoro a 360 gradi perché ha dato modo ai bambini che hanno diversi modi di apprendere e di esprimere al meglio le loro attitudini, le loro capacità. E ha abbracciato tutte le discipline. Il tema comune dell'anno era il giocattolo, di progettare, ideare un gioco da regalare ai gruppi classe della scuola, partendo dalle preferenze dei bambini. I bambini si sono recati nel Fab Lab per mettere in atto il progetto ideato nel nostro plesso. E hanno avuto modo quindi di vivere la loro esperienza di apprendimento in un ambiente diverso da quello in cui si lavora normalmente, quale può essere quello della classe. Quindi bisogna cercare di creare anche un ambiente di apprendimento che sia stimolante, non soltanto dal punto di vista degli arredi, ma anche dal punto di vista proprio della tranquillità dell'apprendimento. Quindi in questo spazio i bambini sono più rilassati, più attenti, ma non solo. E loro sono felici di venire qui perché è uno spazio molto colorato, i tavoli sono modulari per cui possiamo creare all'interno dello spazio diversi ambienti. Questo ad esempio è uno spazio che noi utilizziamo per i racconti, quindi di solito facciamo un circle time, i bambini ascoltano, poi abbiamo la possibilità, avendo anche uno schermo grande, di poter far vedere anche dei cartoni inerenti la storia. Poi adibiamo uno spazio con dei tappeti percettivi su cui i bambini si muovono dapprima liberamente e poi dietro indicazione e poi invece a turno due bambini, uno fa il programmatore e l'altro il robot, iniziano a programmare. In più abbiamo anche la possibilità di poter utilizzare questi tavoli rotondi su cui sono stati disegnati dei reticoli, che sono i nostri tappeti rappresentativi. Su questi tappeti noi ci attacchiamo delle caselle 15x15 e in questo modo è anche una fatica in meno per noi docenti perché non dobbiamo ogni volta stare a realizzare tappeti con la carta che poi si rovinano, ma anche dal punto di vista economico c'è un risparmio. Il rapporto continuo che c'è tra colleghi, il fatto di supportarci a vicenda, se qualcuno ne sa più dell'altro è sempre pronto e disponibile a dare dei suggerimenti. Nell'ambito dell'elettronica abbiamo fatto molti progetti utilizzando la scheda elettronica Arduino. Anche in questo caso abbiamo avuto la possibilità di utilizzare tutta la strumentazione disponibile nel laboratorio per realizzare dei prototipi automatizzati. La vita idraulica di Leonardo stampata interamente in 3D, quindi i ragazzi hanno proprio montato, costruito, inizialmente ideato, studiato la macchina e quindi poi realizzato il prototipo utilizzando appunto la strumentazione presente nel laboratorio. E quindi questo macchinario che si muove da solo solleva l'acqua grazie all'automazione data appunto da Arduino. Sono stati i ragazzi stessi, alcuni ragazzi di terza media l'anno scorso, a proporsi di fare un progetto per gli esami finali. Volevano realizzare un prototipo con Arduino per attrarre anche la commissione. In effetti poi così è stato. Quindi è stata proprio una loro idea, una presa di iniziativa. Questo proprio a dimostrare come quello che è stato fatto abbia avuto i suoi frutti e nello stesso tempo loro stessi hanno voluto utilizzare poi tutta la strumentazione presente nel laboratorio, anche con notevole autonomia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.